Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando della vera e propria stangata decisa dalla magistratura della giostra per quanto accaduto durante il corteo storico nell'ultima giostra del Saracino, quella del primo di settembre. E c'è stata una decisione importante anche da parte del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ma ci dice tutto Chiara Sadotti. Sono in tutto 98 le edizioni di giostra disqualifica che hanno ricevuto 7 figuranti di porta crucifera. Questa la decisione della magistratura a seguito dei fatti lungo il corteo del primo settembre e da altri episodi all'interno della piazza. La stangata più forte è arrivata nei confronti del capitano Rossoverde squalificato per 40 giostre, cioè 20 anni. A queste decisioni si aggiunge quella della decurtazione del contributo dell'amministrazione al quartiere che per un anno verrà decurtato di due terzi del totale. Una sanzione generica al quartiere quindi. A poche ore dal deposito delle sanzioni presso il comune e quindi con l'ufficialità del verdetto, è il quartiere di porta crucifera a nome del consiglio direttivo con un comunicato stampa ad annunciare il ricorso al gran giuri per provvedimenti eccessivi fondati su un procedimento palesemente viziato. Ci difenderemo nelle sedi opportune. Una squalifica quella combinata al quartiere Rossoverde che mai si era registrata nell'ambito della giostra. Nelle scorse ore era maturato anche il commento del sindaco Alessandro Ghinelli. I provvedimenti e le sanzioni emesse dalla magistratura non possono che essere condivise rispondendo appieno alle aspettative che a nome dell'intera amministrazione e di molta parte del mondo della giostra avevo espresso. Mi auguro che questa decisione riporti tutta quella sana passione che la giostra rappresenta per Arezzo e per tutti e quattro i quartieri, nessuno escluso. Avevano messo a segno dei furti anche nell'arettino e sono stati rintracciati dalla polizia che è riuscita anche a recuperare parte della refurtiva. I malviventi si erano dileguati a bordo di un Alfa Romeo rubata. Sono stati gli agenti della squadra mobile di Arezzo ad individuarla. È così partito un inseguimento e i ladri hanno imboccato la 1 nei pressi di chiusi. Alla fine la polizia stradale è riuscita a fermarli. In tutto tre i malviventi hanno guadagnato la fuga a piedi mentre l'auto è stata recuperata. Al suo interno monili in oro e denaro contante oltre a diversi strumenti atti allo scasso e targhe rubate. Parte della refurtiva è stata restituita ai proprietari che hanno ovviamente ringraziato la polizia anche per il valore affettivo di questi oggetti. In corso domani, domenica 29 settembre, il rinnovo del Consiglio provinciale. Sono tre le liste. Sentiamo. Si svolgeranno domenica 29 settembre le operazioni di voto per eleggere il nuovo Consiglio provinciale. Trattandosi di elezioni di secondo livello, il corpo elettorale è formato dai sindaci e dai consiglieri comunali dei 36 comuni del territorio provinciale Aretino. Dopo la riforma del Rio e la trasformazione delle province in organi di secondo livello, i cittadini infatti non sono più chiamati alle urne. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20 nell'unico seggio allestito nella sede della provincia di via Spallanzani 23 presso la sala riunioni al terzo piano. Tre le liste presentate Comuni per la provincia, Centrosinistra per Arezzo e Patto Civico Intratevere Tarno. Sono 12 i nomi nella lista Centrosinistra per Arezzo. La capolista è una conferma rispetto al precedente mandato, ossia la consigliera comunale del Partito Democratico Valentina Vaccari. 9 invece i nomi della lista Comuni per la provincia, solo 2 i confermati tra i consiglieri uscenti nella formazione presentata dal centro-destra. Il capolista è Simon Pietro Palazzo. 7 infine i componenti nella lista di Patto Civico Intratevere Tarno a cui ha lavorato Marco Donati, consigliere comunale di Scelguarezzo. La capolista in questo caso è la confermata Stella Scarnicci. E proprio per una partecipazione più attiva dei cittadini alla politica, le ACLI hanno dato il via proprio oggi ad una importante raccolta firme per una legge di iniziativa popolare. Una raccolta firme per fare in modo che ci sia più partecipazione dei cittadini alla politica. Qual è questa legge di iniziativa popolare che voi portate avanti? Sì, le ACLI coerentemente ai loro valori di trasparenza e di adesione alla democrazia hanno proposto a livello nazionale, noi siamo qui come sezione provinciale ovviamente a portare avanti la proposta, quella di firmare appunto per una partecipazione dei cittadini alla politica attraverso una proposta di legge che consenta alle persone di poter partecipare. Perché oggi la società è sempre molto distratta, molto purtroppo impegnata e questo impegno va in qualche modo anche riportato alle questioni della comunità cittadina e della comunità nazionale. Quindi di tutti noi che partecipiamo a questa Italia che in questo momento ha tanto bisogno di persone che anche ritornino ad amarla e ritornino a voler costruire un futuro per questo paese. E per poterlo fare è necessario partecipare e essere nelle condizioni e poterlo fare. Quindi la nostra proposta, la proposta delle ACLI è sicuramente quella di far partecipare le persone consentendo loro, magari anche attraverso dei contributi, dei permessi retribuiti di partecipare ad assemblee pubbliche, di confrontarsi in luoghi dove possono farle e siano in qualche modo stati incaricati, quindi lo possono fare con diritto e che questo ovviamente contribuisce alla trasparenza poi delle discussioni e delle scelte. Perché bisogna tornare ad essere protagonisti noi tutti. Questa mattina è una raccolta che voi fate al mercato di Viale Giotto, ma la raccolta andrà avanti. Quanto e dove sarà possibile firmare? La raccolta andrà avanti fino a dicembre e sarà possibile firmare oltre al banchino, in questo caso, del mercato che sarà qui tutti sabato mattina, anche alla sede delle ACLI. Ed è possibile ovviamente, siete tutti invitati a farlo, insomma. Chiunque voglia può partecipare, a prescindere da chi frequenta le ACLI, insomma. La sede è sempre aperta, anzi. Ci fa piacere che ci conosciate e che possiate anche condividere con noi un percorso e questa iniziativa in particolare. Gli operatori degli appalti di pulizia dei distretti sanitari di Arezzo Siena e Grosseto sono sul piede di guerra. Oggi sono le segreterie provinciali, Filcams, CGL, proprio delle tre province e denunciano il comportamento dell'azienda sanitaria sud-est che adotta, dicono i sindacati, politiche riduttive dei servizi scaricando i tagli sui lavoratori in appalto. Circa il 30%, questo è il taglio appunto che sarebbe stato comunicato alle organizzazioni sindacali. Per queste ragioni scrivono abbiamo aperto lo stato di agitazione e avviato la procedura prevista dalle norme. Chiediamo alla regione toscana di intervenire su questa questione. Adesso invece ci spostiamo in Casentino per una bella storia, un intero paese che si è mobilitato per Morgana. Io avevo semplicemente bisogno di un ascensore, non volendo gravare sui miei genitori, ho deciso di creare questa raccolta. Ovviamente non mi aspettavo che esplodesse come appunto è successo, infatti tutto questo amore è stato davvero incredibile. Morgana ha 30 anni, da quando ne aveva 17, sulla sedia a rotelle per una malattia neurodegenerativa, la tassia di Frederic. Abita in un condominio di stia comune dell'Alto Casentino e per uscire di casa ha installato da tempo un montascale, ma vorrebbe uscire ed entrare dalla sua abitazione in piena autonomia. Cioè per uscire per andare al lavoro, per esempio, che io tutti i giorni, dal lunedì a venerdì, dalle due e mezzo alle sei sono in ufficio con il mio collega e anche lì andare a lavorare e rientrare a lavorare in autonomia sarebbe ottimo. Così ha deciso di dare il via ad una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFoundMe e in pochissimi giorni sono fioccate le donazioni. Cosa c'è in prospettiva quindi per raggiungere questo obiettivo? Il proseguimento ovviamente della raccolta fondi, poi sappiamo anche di un'iniziativa che il comune di Stia ha voluto insomma organizzare per tempo. Sì, siamo in contatto infatti con il sindaco di Stia che ha avuto l'idea di organizzare una sorta di evento, ancora non sappiamo bene in cosa contesterà, se è una cena, un pranzo o un evento in teatro, ancora non ci sarà bene, ma comunque qualcosa ci sarà e non vediamo l'ora. La valutazione su come e dove installare l'ascensore è già stata fatta adesso Morgana e quindi molto più vicina al risultato e alla sua sacrosanta autonomia. Davvero tutta Stia si è attivata per aiutarmi, grazie davvero a tutti perché è davvero incredibile. Tempo di funghi e viste anche le piogge delle ultime settimane e poi il sole c'è da sperare che ne siano nati molti, tempo però allora anche per rivolgersi agli sportelli micologici dell'ASL Toscana Sud-Est proprio per consumarli e anche conservarli in piena sicurezza. I tecnici della prevenzione con qualifica di micologo sono presenti nelle sedi dei dipartimenti o in altre sedi come ad esempio a Montevarchi, all'ospedale di Santa Maria della Gruccia proprio per fornire indicazioni sulla commestibilità appunto dei funghi. E allora ricordiamo quali sono i punti a cui i cittadini si possono rivolgere per questo sportello micologico. Ad Arezzo presso il Dipartimento di Prevenzione nella zona di Campo di Marte, a Montevarchi invece all'ospedale di Santa Maria della Gruccia e a Sansepolcro, Poppi e Camucia presso il distretto socio-sanitario. Parliamo adesso invece di una bella iniziativa dell'Associazione Latte di Mamma che grazie ad una donazione ha potuto attivare un servizio via WhatsApp proprio per le neomamme. Ho bisogno di fare una chiamata, ho bisogno di avere un consiglio, a volte anche quelle cose che possono sembrare ma è una domanda stupida al pediatra non gliela faccio, non vado al consultorio per questo, però rimane quel tarlo in testa in cui ti dà l'ansia, sono preoccupata, non so come fare oppure magari è venerdì, venerdì, fine settimana è lungo, perfetto, si manda un messaggio, si prova a fare una chiamata oppure si chiede ho bisogno di una mano, c'è qualcuno, qualcuno c'è. Offrire consulenza, suggerimenti ed assistenza alle neomamme attraverso un semplice messaggio di WhatsApp è l'iniziativa promossa ad Arezzo dall'Associazione Latte di Mamma, composta da mamme volontarie e formate lanciata in occasione della settimana mondiale dell'allattamento. Siamo ormai nell'era dei social perché le mamme purtroppo tendenzialmente sono anche tanto sole e tendono a cercare su internet. Fortunatamente noi abbiamo i nostri social e ci trovano, però abbiamo detto come fare per agganciarli meglio, ci serviva il numero di telefono e ci serviva un telefono fisicamente. A donare lo smartphone l'azienda Retina Sintra. Per Sintra è stata una cosa molto importante poter contribuire ad aiutare questa associazione in modo tale che possa essere maggiormente vicino a neogenitori e a neomamme, soprattutto in un momento che è particolarmente importante, è un momento di cambiamento, è un momento che implica la necessità di vicinanza da parte di molteplici figure. Il numero Whatsapp da contattare sarà il 379 22 500 67. Verrà attivato dal primo di ottobre il pulsante Whatsapp da Facebook, troverete cartelloni al consultorio, al rooming in, penso che li attaccheremo dovunque possiamo, dove ci sono i nostri visi e tutti i contatti, compreso il numero di telefono. In occasione della settimana mondiale per l'allattamento, l'associazione Latte di Mamma ha anche organizzato un incontro in programma sabato 5 ottobre alle 16 al Parco del Pionta, che ruota attorno al tema Stop alle disuguaglianze. Ci siamo agganciate a un'altra associazione che si chiama ACB Social Inclusion, che si occupa anche di famiglie straniere, che sono quelle che poi si ritrovano ancora più indietro. Sarà un pomeriggio piacevole, dove avere però un po' di informazioni. Ci sarà il dottor Poggini come pediatra referente dell'Unicef e come rappresentante di Nati per la musica. Ci sarà la biblioteca di Arezzo con Nati per leggere. Ci saremo noi con tutte le informazioni di cui avete bisogno, creeremo un specie di baby beat stop, quindi ci sarà possibilità di allattare, di sedersi, di cambiare il bambino e un po' di attività divertenti per i bambini. Avremo con noi la dottoressa Leila Raggioli, che è una psicologa che si occupa di famiglie, per far fare delle attività ai bambini riguardanti un po' le emozioni e il mondo che li riguarda. Ci sarà anche la misericordia per dare informazioni riguardo alla sicurezza per i bambini, perché poi ci sono vari step, la disostruzione, insomma. È bene avere tante informazioni su quello a cui si può accedere. Siamo alla pagina della cultura. Arezzo celebra Puccini con il nuovo Gianni Schicchi, ieri al Teatro Petrarca. Sentiamo. Per portare ad Arezzo l'opera lirica per la prima volta prodotta interamente ad Arezzo, per Arezzo, ed esserci dentro è veramente felicità pura. Nel centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, al Teatro Petrarca ha debutato il nuovo Gianni Schicchi. L'opera comica del celebre compositore toscano è infatti tornata con una nuova produzione fortemente voluta dal Comune in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo, con protagonista il baritono Mario Cassi, la regia di Manu Lalli e l'orchestra della Toscana diretta da Fabrizio Maria Carminati. Abbiamo voluto includere nel cast cantanti da tutto il mondo, ci sono dall'Argentina, dalla Corea, però la retinità si sente forte, la toscanità io non lo so, però io canto Puccini da non so quanti anni, un po' in tutto il mondo e trovo che veramente i toscani su Puccini abbiano una marcia in più e quindi la particolarità se posso, con un po' di orgoglio, è che Schicchi, fatto così, forse il sor Giacomo è contento. Nel cast anche i talenti del nuovo progetto Le Stanze dell'Opera, una scuola di specializzazione per giovani cantanti lirici e musicisti. Io spero che un giorno si potrà dire che qui è nata, questa sera sono nate delle nuove stelle, che anche questo non è mica scontato perché il nostro lavoro, come dire, ce la fa uno sui 20, sui 30. Ecco, io stasera spero di avere portato a battesimo delle promesse che qualcuno, poi non è neanche più una tanta una promessa, è già una realtà e spero che Arezzo non se la faccia sfuggire. Infine l'omaggio del mondo degli orafi all'opera lirica di Arezzo. Per l'occasione Federorafi ha infatti fornito 60 monili provenienti da tutti i distretti orafi italiani. Non sono accessori, sono protagonisti perché la regista veramente ispirata da questi gioielli ha creato dei personaggi e quindi, che dire, quando l'arte orafa, unita alla musica e alla cultura, portano al successo un'opera, è gioia pura. Ma come si fa? In questo mondo una cosa si perde, una si trova. E Cortona ospita la presentazione di Puccini contro tutti, arie, fughe e capricci di un genio anticonformista. L'autrice Beatrice Venezzi parteciperà a questo evento giovedì prossimo 3 ottobre alle 21 nelle sale Medice del MAIC. L'iniziativa è a cura dell'Associazione Cultura Nazionale con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale dell'Accademia Etrusca. L'evento per la città di Cortona rappresenta proprio una prima celebrazione nel centenario della morte del grande compositore. In questo fine settimana ancora è possibile gustare i migliori primi piatti d'Italia a Foligno in Umbria con la manifestazione I primi d'Italia, presenti anche dei marchi aretini. Il giro d'Italia attraverso i primi piatti più caratteristici dello stivale è in corso a Foligno la 25esima edizione dei primi d'Italia, chermesse gastronomica organizzata da Epta Conf Commercio Umbria. Con questa manifestazione tutto il centro Folignate promuove a 360 gradi la cultura del primo piatto in tavola, oltre che per degustazioni, lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi chef e momenti di spettacolo, riflettori accesi anche per le migliori produzioni alimentari. Disseminate per la città tante mostre mercato che mettono in evidenza i prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di un buon primo piatto. Il percorso del gusto parte da Piazza della Repubblica con la boutique della pasta, qui anche un marchio aretino, Menchetti, con la pasta prodotta con il grano bio, senatore Cappelli. E ancora l'angolo del mercato di Conf Agricoltura, l'atelier del gusto, la sezione street food, il percorso termina con il villaggio delle tipicità che celebra i prodotti del settore artigianale e artistico di qualità e agroalimentare. E siamo allo sport in vista dell'importante impegno contro la Ternana. Mister Troise oggi in conferenza stampa ha detto partita stimolante, la giocheremo in 16. Sentiamo. Siamo consapevoli che domani può essere il valore aggiunto e noi ci dobbiamo attaccare a questo entusiasmo di un pubblico e sappiamo di un popolo quanto può incidere in partite del genere. Quindi mi aspetto da parte dei ragazzi quella capacità di un giusto approccio in termini di personalità, in termini di motivazione proprio per far sì che poi il nostro stadio ci possa dare quel quad in più per affrontare una partita da un coefficiente di difficoltà molto alto e che durerà 90-95 minuti fino alla fine perché hanno una rosa importante, hanno un'esperienza, una capacità di gestire i momenti della gara, di controllare i momenti della gara e quindi sarà fondamentale da parte nostra fare una partita, io dico totale, in quella che è la sua complessità. Arriviamo bene, arriviamo bene in termini di risultati, di motivazioni, arriviamo bene in termini di aver compreso che comunque abbiamo fatto una partita di crescita contro il Gubbio e anche sotto l'aspetto puramente fisico abbiamo avuto la possibilità in questi 3-4 giorni di recuperare energia e recuperare qualche giocatore, quindi a parte Montini, Damiani e Chiosa che chiaramente si è aggregato solo da poco, posso contare su tutta la rosa e questa non è una cosa da poco. Sarà un impegno invece fuori casa quello di domani per l'Arezzo Calcio Femminile che incontra il Bologna Women che dopo 3 giornate di campionato è ancora al primo posto con 9 punti insieme a Ternana e Parma. L'appuntamento è alle 15 al campo sportivo Bonarelli per il quarto turno di Serie B, l'incontro è in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Gioco Calcio. Domani prima di campionato di Serie B anche per la BC Servizi Arezzo che sarà impegnata sul parchè del Palasclavo di Siena contro la Menzana come nella scorsa stagione, gli Amaranto esordiranno fuori casa. La Menzana ritorna dunque avversario della SBA dopo i due confronti della stagione 2022-2023. L'appuntamento è domani alle 18.00 ed infine chiudiamo con i motori e con delle vere e proprie leggende che questa mattina hanno sfilato a Pieve Santo Stefano. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Una parata di leggende, auto da rally e da competizione a Pieve Santo Stefano con lo Spino, leggende in salita, un concorso dinamico per auto e moto storiche sportive da competizione. Vere e proprie signore dei rally, oggetto di valutazione da parte di una giuria d'onore di cui faceva parte Andrea Guidi, titolare del glorioso Jolly Club. È stato proprio lui ad assegnare i premi alle vetture rally più rappresentative in questa specialità. Realtà importante per l'evento è il club Il Saracino Di Arezzo, co-organizzatore, assieme anche al club auto-moto d'epoca toscano Camet. Se non ci fosse passione non saremmo alla seconda riedizione di questo concorso dinamico per auto da competizione e sportive che gli amici dello Spino, loro sono i veri proprietari e i dirigenti dello Spino hanno messo a calendario. Io li aiuto esternamente per curare la logistica, per trovare macchine importanti. Non si tratta di una cronoscalata, non c'è nella maniera più assoluta rilevamento tempi, però le macchine sono quelle che sono salite sui tornanti già a partire dagli anni Sessanta. Tu Beppe sei fortunato perché stamattina è il tuo debutto nel mondo delle salite con la tua Abarth 850. Sei il neo ultimo proprietario di questa macchina bellissima che vedete alla destra di Marconi e questa mattina tu ti godrà i primi, per la prima volta, i 12 chilometri e 700 dello Spino che credimi io le salite in Italia le conosco tutte, ma il tracciato dello Spino è il più bello in assoluto di tutti. E' tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortesia e attenzione e arrivederci.